Ultima parte di Volley Time per parlare di convergenze CUS Siena, ci ha raggiunto nei nostri studi, la ringrazio per essere con noi Gaia Mancini, ciao Gaia, buonasera. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 L'obiettivo iniziale che ci aveva dato Matteo era quello di arrivare a giocare la Coppa Italia, quindi arrivare prima a metà campionato. Inizialmente era un po' un'utopia e neanche noi ci credevamo fino in fondo, però poi quando siamo partite e abbiamo iniziato a vincerne una dopo l'altra, alla fine poi si rende conto che veramente c'è la possibilità di raggiungere obiettivi importanti. Anche perché ci hai detto che l'anno scorso hai fatto per alcune partite parte del gruppo della prima squadra, l'anno scorso la salvezza è vero era stata una situazione particolare perché punti di vantaggio erano tanti, però è arrivata solo alla penultima giornata. L'anno scorso ci siamo mantenuti sulla media e bassa classifica anche a causa di numerosi infortuni, anche delle giocatrici isolari, invece quest'anno si cerca di raggiungere il massimo. Un girone quello di quest'anno forse con trasferte un po' più complicate, mi vengono a mente quelle della Sardegna soprattutto, l'ultima l'avete vissuta pochi giorni fa con due giorni di viaggio in traghetta e un meteo non particolarmente favorevole, però forse a livello tecnico il girone dell'anno scorso era un po' piuttosto? Sì, era superiore diciamo a livello tecnico, c'era solo una squadra che era facilmente battibile a livello tecnico che poi comunque ci abbiamo anche perso un punto se non mi ricordo male, mentre quest'anno ci sono diverse squadre che sono con un livello tecnico abbastanza basso, tutte comunque con un livello pari diciamo e quindi tutte abbastanza facilmente battibili salvo imprevisti. Allora, ritornando un po' a quella che è stata la partita giocata sabato scorso, andiamo a sentire le dichiarazioni del coach Matteo Falchi che era molto soddisfatto anche se visibilmente teso a fine gara. La partita è andata molto bene, l'avevamo preparata bene, le bimbe sono state bravissime a realizzare quello che avevamo preparato durante la settimana, la dimostrazione è stata il secondo set dove abbiamo veramente chiuso tutti i loro sbocchi in attacco e le abbiamo messe subito sotto pressione con il nostro servizio. Un pochino più di affanno nel terzo set ma siamo riusciti a portare a casa tre punti senza perdere nemmeno un set e di questo siamo veramente contenti. La prossima partita non sarà semplice anche se sulla carta andremo a affrontare una squadra molto giovane come il Vollerò Casal De Pazzi, anche se nel loro organico ha sette giocatori che militano nelle squadre nazionali italiane. Quindi la dovremo preparare bene anche perché hanno tanta fisicità, tanta potenza di attacco, dovremo essere noi più bravi nel portare avanti la qualità tecnica nostra che per ora è superiore alla loro. Ecco Gaia, che allenatore è Matteo Falchi? Ormai ci ha detto lo conosci da metà dell'anno scorso, come ti trovi con lui? Ma bene, perché comunque riesce a essere molto concentrato sulla tecnica, sull'intensità dell'allenamento e insegnarti tante cose, però comunque ha sempre la battuta pronta e è pronto a smorzare anche le situazioni un po' più di tensione. Sicuramente una delle colonne portanti del Cus Siena, direi degli ultimi anni, ma forse degli ultimi decenni, è il presidente Giuseppe Gotti che vi segue sempre con molto affetto e che abbiamo sentito a fine partita anche lui intervistato per commentare questa bella vittoria ottenuta per 3-0. La pallavolo femminile, che è una sezione che ci ha sempre dato grosse soddisfazioni e anche quest'anno, sotto l'abile guida di Matteo Falchi e dei suoi collaboratori, la sezione sta dando buoni frutti, soprattutto la prima squadra in B2 prima del girone e ancora non conosce sconfitta. Ieri ho visto una bella partita dove le nostre ragazze erano partite un po' lentamente, ma quando hanno capito il valore delle avversarie hanno adeguato il loro gioco e pur mancando Eva Guerrini per un infortunio a un dito, chi l'ha sostituita e le altre si sono adeguate rapidamente al gioco dell'avversario e hanno fatto su alla partita con una ricezione perfetta e con delle battute veramente efficaci. Per chiudere un po' l'analisi sulla partita che avete vinto sabato scorso per 3-0, secondo te qual è stata la chiave? Io nei numeri la vedo nella battuta e nella ricezione, non so se sei d'accordo. Sì, sapevamo che era una squadra con un muro e una difesa importante e quindi ci siamo concentrati soprattutto sulla battuta per metterle un po' in difficoltà e in ricezione, che era il loro punto debole su cui potevamo influire e riuscire a prendere più punti possibili. Andiamo a dare un'occhiata a quella che sarà invece la prossima tornata della Serie B2 femminile Girone G, si gioca nel prossimo fine settimana la decima giornata del Girone d'Andata, Silcana Sorso contro San Paolo Cagliari sabato alle ore 15.30, Convergenze Cus e Siena di nuovo in casa secondo impegno consecutivo casalingo alle ore 17, dicevamo contro la Vollerò Casal dei Pazzi Roma, Poi per quanto riguarda sempre sabato alle ore 19.30 la Polisportiva Casal dei Pazzi, sono due squadre praticamente con il nome uguale contro la Proger Roma alle 19.30, dicevamo il G Castello alle ore 21 contro la Ecosoluzioni Roma, la Sorbi Perugia sempre alle ore 21 di sabato contro la Galletti Perugia nel derby Umbro, mentre domenica alle ore 15.30 si giocheranno Promomedia Roma contro Donoratico e alle 16 modo Volley Roma contro 3M Perugia. Che squadra ti aspetti nella prossima sfida? Ce la raccontava un po' Matteo Falchi, una squadra molto fisica. È una squadra giovane, se non mi sbaglio dovrebbe essere tutte 2003, quindi under 16, però sono appunto tutto in interesse nazionale, quindi ci si aspetta fisici importanti e grande forza e potenza e speriamo di poter giocare sulla loro inesperienza e vincere così anche la prossima. Una classifica, lo dicevamo, ci siete voi a 26, poi c'è la 3M Pallavolo Perugia a 24, dopo iniziate a fare un po' il vuoto e dunque questo vi invita da un certo punto di vista a continuare, di sicuro non bisogna montarsi la testa. Eh no, anche perché è vero che dalla seconda in poi c'è il vuoto, però c'è comunque 3M Perugia che è subito dietro di noi a due punti e quindi basta un piccolo inciampo per finire il seconde. E dunque speriamo che continuiate, insomma per ora avete giocato stra bene, avete vinto, per cui speriamo davvero che continuiate su questa falsa riga. Sei immagino contenta comunque di far parte di una squadra vincente, di respirare questa atmosfera, è sempre bello in uno spogliatore quando si vince, giusto? Anche se comunque non sono, diciamo, nelle tisorari è comunque una soddisfazione far parte di una squadra che ne vince una dopo l'altra a questo modo, gioca bene, c'è sempre un'area positiva sia durante gli allenamenti, negli spogliatori, dopo le partite, quindi è comunque una soddisfazione. Gaia, avete già pensato, ora non ve la voglio gufare assolutamente, però avete già pensato a come eventualmente festeggiare un po' questo primato nel caso arriviate a Natale, alla sosta natalizia da prima in classifica? Sarà sicuramente un ottimo Natale da passare, non ce l'aspettavamo, quindi sarà ancora meglio e speriamo sia così. E noi vi facciamo un grande in bocca al lupo, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. E un saluto a tutto il Convergenze Cus e Siena che ritroveremo in campo sabato alle ore 17, abbiamo detto, per la partita contro la Modo Volley di Roma. Si chiude qui questa puntata di Volley Time, noi ci ritroviamo martedì prossimo come sempre intorno alle ore 22 per continuare a commentare Emma Villas, Cus e Siena, Convergenze e non solo. Grazie per essere stati con noi, la buona serata a tutti e rimanete sul Canale 3. Grazie a tutti.